Raccontiamo adesso la storia di un uomo coraggioso che ha fatto una scelta importante nella sua vita, una storia che ha fatto il giro del mondo e che raramente è stata raccontata dal suo protagonista che invece oggi è qui con noi anche per questo, lo ringraziamo. Benvenuto Simone Farina! Simone, io sono onorata di stringerti la mano, soprattutto in quanto madre di ragazzi che seguono il calcio, perché tu sei veramente per noi un'icona. Ah, addirittura! Sì, davvero, conosciamo la tua storia. Iniziamo, facciamola conoscere anche a chi ancora non la sa, dal 2011, iniziamo da quell'anno. Chi è? Simone che cosa fa? All'epoca di fatti giocavo in Serie B con il Gubbio, è una cittadina di 30.000 abitanti. Una storia incredibile perché in giro di due o tre anni siamo arrivati in Serie B, vincendo due campionati di seguito, quindi una storia molto particolare. e all'epoca di fatti un giorno ricevetti una telefonata da un mio ex compagno di squadra che giocavamo nelle giornalità della Roma. Tu avevi fatto tanti sacrifici per arrivare a giocare in B? Sì, molti. Molti anche perché purtroppo mi ero rotto due volte le ginocchia, quindi ho avuto tanti infortuni nella mia carriera, però con molti sacrifici sono riuscito a raggiungere un obiettivo importante. Quindi eri proprio felicissimo. E arriva un giorno una telefonata? Sì, mi ricordo ancora come se fosse ieri, è arrivata questa telefonata dove mi chiese di incontrarlo l'indomani. Andai... Era un tuo amico? No, era un ex compagno di squadra. Ex compagno di squadra? Sì, avevamo fatto due o tre anni insieme nel settore giovanile della Roma e mi ricordo che quando ci siamo incontrati andò subito al dunque, al sodo. Mi chiese di truccare una partita. In che modo? In modo di... intanto mi propose 200.000 euro da dividere anche con i miei compagni, quindi dovevo convolgere anche i miei ex compagni di squadra. Dovevi far sì che la squadra, il Gubbio perdesse? Perdesse 3 a 1 perché... Contro chi? Contro il Cesena che all'epoca giocava in Serie A, noi avevamo questa partita il mese seguente di Coppa Italia e niente, doveva finire i risultati 3 a 1. E perché? E perché dietro a queste cose ci sono organizzazioni criminali che lucrano. A livello internazionale? Sì, purtroppo sì. Tu che cosa hai fatto? Io ho fatto... semplicemente ho rispettato le regole. Sono andato a denunciare. Non ci hai pensato su neanche un secondo? No. No, perché, devo essere sincero, sono andato subito a casa, mi ho parlato con mia moglie. Da quanto tempo eravate sposati? All'epoca ci siamo sposati nel 2006, 2011, quindi erano 5 anni. Che eravate sposati, ma da quanto tempo vi conoscete tu e tua moglie? Eh, da tantissimi anni, perché andavamo a scuola insieme a 10 anni, l'ho conosciuta. A 10 anni? Sì. Quindi diciamo che lei è la tua confidente, la tua migliore amica. La mia gente, la mia confidente, la mia amica. È la mamma dei vostri? Tre figli, sì. Tre figli. Sì. E che cosa ti ha detto lei? Niente, due teste è meglio di una, come tu sai benissimo, abbiamo ragionato e abbiamo capito subito che era una cosa molto grande, no? E sono andato a denunciare il giorno seguente. Poi nei mesi successivi ho incontrato anche la polizia, in cui ha fatto anche delle indagini importanti e nel 2012, cioè dicembre 2011, poi successivamente 2012, sono state arrestate 20 persone. Hai scatenato un po' di ferio praticamente con questa tua denuncia. E come l'hanno presa? Anche i tuoi compagni di squadra? Beh, diciamo c'è stata molta indifferenza, voglio essere un po' politico, c'è stata molta indifferenza in questo e questo ne ho sofferto tanto. Perché comunque sia io reputavo il Gubbio all'epoca, la mia seconda famiglia, no? E quindi ho un po' sofferto molto questa situazione, ho cominciato a non giocare. Perché loro ti avevano consigliato in qualche modo di mettere tutto a tacere, di non far uscire fuori? No, 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 assolutamente no. Però diciamo che istintivamente non ho detto niente alla società. Quando questa persona è venuta a propormi questo, non so per quale motivo. E non ho detto niente, poi successivamente ho dovuto raccontare tutto perché stavo facendo tardi agli allenamenti. Però da lì in poi le cose sono un po' cambiate all'interno della mia società, no? Non so per quale motivo, da essere sincero, ancora non lo riesco a capire. Però nel frattempo tutti si sono complimentati con te per aver avuto il coraggio di denunciare. C'è diventato l'emblema dell'onestà, della legalità, del fair play. Fair play, sì. Ora tu vivi. Perché adesso, ora lo raccontiamo, sei diventato inglese praticamente. Sì, sì, anche se l'accento è un po' quello... Trasteverino. Trasteverino, però vabbè, uno ci prova. Diciamo che tutto il fatto è successo, è durato un anno, io ho sofferto molto di questa situazione qui, poi ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi ha cambiato letteralmente la mia vita, no? Ha capito veramente il problema quello che stavo vivendo, che era l'ex segretario generale dell'Interpol, Ron Nobel, che è un americano. e quando lui, abbiamo fatto questo incontro, mi disse che assolutamente combatteva per queste cose, quindi doveva assolutamente aiutarmi e da lì a breve mi ha cambiato letteralmente la mia vita. Perché ha valorizzato questo gesto e ti ha fatto diventare appunto un punto di riferimento. Esattamente. E quindi ho cominciato a collaborare con la FIFA, con l'Interpol, che avevano siglato una Gentleman Agreement, dove cercavano di combattere questo... cercano tuttora a combattere questo grande problema che è il match fix, no? Calcio scommesse. Però di fatto... Però di fatto... Tu hai smesso di giocare al calcio. Ho smesso di... Sì, il mio sogno era... Anche perché ho cercato... Per me era l'ultima opportunità per arrivare in Serie A, che è il sogno di tutti i bambini. Perché ormai avevi 30 anni. Sì, avevo 30 anni, sì. Quindi era l'ultimo treno che potevo... Però... Quindi ti è costato tantissimo questo gesto. Sì. Ne è balsa la pena? Sì, sì, sì. Ne è balsa la pena. Assolutamente sì. È anche successo che in qualche modo hai dovuto mettere a riparo la tua famiglia. E da padre responsabile, da marito, li hai portati tutti via in Inghilterra. Sì. Come ho detto prima, ecco, ho avuto questa grande opportunità di lavorare per un club glorioso come era la Stoneville all'epoca. e niente, ho capito subito che era meglio cambiare aria. E ho deciso di trasferirmi a Birmingham in UK. È stata... È tuttora un'esperienza unica, non solo per me, ma anche per la mia famiglia. Ho dato un'opportunità. Quanti anni hanno i vostri figli? 12, 10 anni e 4 anni l'ultimo. E l'ultimo è nato nel 2014, quasi un po' a sigillare questa... Sì, diciamo è stato il regalo. Il regalo che ci siamo fatti, sì. Tua moglie come si chiama? Scilla. Ah, pensavo Rachele. No. Scilla. Beh, aveva già un nome internazionale, quindi si è trovata bene. Beh, è particolare, quindi è quello che mi ha... Ma lei parlava inglese prima di partire? No, lei sì, un pochino sì. Lei sì. Lei sì. Io no. Io assolutamente no. E come fai adesso? Tu sei... Cioè, il ruolo proprio che svolgi... Adesso io ho cambiato società da circa due anni, adesso sono a Leeds United, che è un altro club di proprietà italiana. Mi occupo dei giocatori in prestito e delle vendite e dell'uscita dei giocatori della prima squadra. È un ruolo molto interessante, che si avvicina un po' a quello che vorrei fare a Rita Grande, che è il direttore sportivo. Bene. E comunque ambientarvi lì con una cultura diversa, una lingua così diversa, è stato difficile? È stato inizialmente complicato perché io ancora ragionavo, i primi due anni ragionavo da calciatore. Però poi ho capito l'importanza e l'opportunità unica che avevo e poi ho girato il mondo perché lavorando con FIFA, Interpol e poi anche col Qatar mi hanno dato l'opportunità di visitare posti, di parlare con tanta gente, con ragazzi, per aiutarli a promuovere questo fair play. Quando succedono delle cose del genere, quando ascolto queste storie, penso sempre che il protagonista ogni tanto ritorni al momento esatto di quella telefonata. Un attimo prima e un attimo dopo. Ti sei fatto la domanda perché a me? Io l'ho chiesto perché a me. Lui mi disse perché avevo letto sul giornale che tu giocavi un mese successivo con il Cesena. Però sinceramente non so, non so. E va bene, ma in un discorso più ampio. Perché ti è successa questa cosa nella tua vita? Che stavi là per realizzare finalmente quello che pensavi essere il tuo sogno. Per cui avevi combattuto tanto, avevi anche fatto dei sacrifici. Certo. Perché? Forse perché in un'altra maniera mi è stata data l'opportunità di raggiungere obiettivi importanti. Allora tu non ti senti uno sconfitto, ti senti premiato dalla vita. Sì, 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 un vincente. Un vincente. Per noi lo sei. Assolutamente. Grazie. Grazie. Grazie davvero.